Tu sei quella innamorata e ossessionata? Sono divine? E tu chi sei quando lui non c'è? Non lo capisco. Siamo in amore. Oh, mi piace quello che lui piace. Stampp Collecting, per esempio. Hai visto lui? L'ultimo ho sentito che lui vuole un challenge a una delle arenate di gioco. Ehm, va bene. Ok, dico che lo ami, che dà perfetto, va bene. Ehm... Ehm... Non puoi annullarti così. Va bene, dai. Ok, hai ragione, dai, non cagare il cazzo. Oh, dobbiamo andare qui, ragazzi, è inutile. Eh, un'altra arena pronta, porca miseria. Quindi non la finiremo più, ragazzi. Non la finiremo più. Da che parte? Dov'è che me l'ha sbloccata sta cazzarola di arena? Non dovrebbe essere difficile da trovare. Ah, eccola qui. Ah, eccola qui. La roulette di dado quadro. Quattro. Ehm... Ok. Devo combattere. L'obiettivo di questo gioco da tavolo è far scendere una scala fino al livello dell'arena per riuscirci. Fai in modo che adesso va bene. Ogni volta che una sfera finisce nel buco la scala si abbassa. Ok. Ogni volta... Ok, va bene. Ehm... Vado di... Di lancia. C'è una sfera qui. C'è un'altra lì. Aia. C'è un'altra lì. Aia. Vieni qui, cazzo. Alla prossima You're half way there! Porca troia, bastardi! Pezzo di merda! Guarda! Dai che manca pochissimo! Oh ma altre sfere no? Aioh! Oh! Dai 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 che ce l'abbiamo fatta! Ok, lettera da Dio, una lettera per Odessa Pellegrini scritta dall'amore della sua vita. Torna da Odessa. E riusciamo ad affrettarci poco a poco. Sì, ho trovato una lettera, mi dispiace. Una letter? Dio? 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 Beh, almeno lui l'ha capito. Sì, sei andato, mi dispiace. Ho perduto tutto. Ho perduto tutto. Ma che cosa? No, non è vero. Tu sei ancora... Tu sei ancora te stessa? Sei io tessa? Io vorrei? Io voglio il! Ma poi ancora, magari la speranza non è perdita. Magari se ho fatto quello che ha detto. Se ho cercato a figure out chi sono quando sono a me, se ho reddiscovere chi è dove devo essere e veramente essere, e magari mi avrà tornato. Può darsi Vale la pena tentare Ok, filo rosso ottenuto, perfetto Ma perché dobbiamo fare tutto questo casino per cercare di ottenere questi fili? Cioè, veramente Beh, a qualcosa servirà, se no Che ci stiamo a fare qui? Le rose sono rosse E anche questo filo che non vedo l'ora di essere in tessuto In un bel tappeto Allora, forse il prossimo cittadino con cui dobbiamo parlare per di qua Sì Aspettate un attimo che qui c'è un manifesto della nostra taglia che siamo ricercati E anche tu avevi un dato? Oh, sì Oh, sì, sì Perché il tuo rapporto con Kubi si incrinò? I don't know It just seems bigger and bigger until... E mi ha provato a cercarla? No, 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 non potrei I can't Lo so, lo so, ma non me ne preoccupo più di tanto Io e il mio dato potremmo aiutarti Ehm... Se lo vuoi Un'altra arena? Beh, certo, era ovvio Va bene, dai Vinco la battaglia nell'arena Ti restituisco il sorriso Tutto quello che vuoi E noi otteniamo il filo che ci serve Forse quello verde, se no mi sbaglio Altra arena disponibile No, era il blu Filo blu Dove sta l'ingresso? Ma sono io rincoglionito Che non lo vedo Ok, ricompensa Superi le zeal Ma ce l'abbiamo già Abbiamo tirato via tutti i manifesti Però io sto ancora cercando l'ingresso Veramente, ragazzi, non lo vedo Sono cieco No, infatti, eccolo qui Oh, che cazzo Buongiorno Grazie Grazie a tutti